Sono Michele, faccio Fisica di Pisa e oggi sono qui al Innovation Camp, al primo organizzato a Pisa. È stata una bella giornata e ancora una bella giornata, di là lavorano. È strano pensare come si possa ragionare anche con economisti e ingegneri gestionali e un sacco di altra gente e pensare di tirare fuori delle idee produttive. Ho scoperto che il mondo del provare a fare qualcosa di produttivo non è così assurdo come sembra, non è così lontano dalla mia realtà. Poi ci ho guadagnato la conoscenza di un po' di bella gente, nel tutto. E secondo, un metodo è danese, un bel metodo per provare a massimizzare le idee e a tirarne fuori qualcosa di buono e di reale.